Onorevole Nicola Molteni, Donatella Ferranti del Partito Democratico è stata letta al nuovo presidente della Commissione Giustizia di Palazzo Montecitorio. Come commenta la Lega Nord? Ma ovviamente auguriamo buon lavoro, dobbiamo dire però che le prime parole del nuovo presidente della Commissione Giustizia alla Camera non ci sono assolutamente piaciute. Ha posto immediatamente come priorità dell'inizio dei lavori della Commissione la necessità di affrontare il problema delle carceri attraverso la riproposizione di un provvedimento che già nella passata legislatura vi era stata durissima battaglia da parte della Lega. Mi riferisco in modo particolare allo svuota carceri, a salva da delinquenti, all'istituto della messa alla prova, provvedimenti che garantiscono impunità nei confronti di chi ha commesso reati, reati anche particolarmente gravi. La Lega cosa dice al nuovo presidente della Commissione Giustizia? Che se queste sono per lei le priorità noi siamo pronti fin da oggi ad una battaglia durissima. Per la Lega il problema del sovraffollamento delle carceri lo si affronta in due modi, costruendo nuove carceri e quindi dando applicazione al piano carceri fatto dall'ex ministro Alfano, 650 milioni di euro per costruire nuove carceri e attraverso la possibilità e la necessità di far scontare ai detenuti stranieri che rappresentano il 35% della popolazione carceraria e la pena nei paesi di origine. Se la Presidente e la maggioranza invece riterranno di imboccare la strada di provvedimenti indultivi, amministie o atti di clemenza generalizzati la nostra opposizione sarà durissima.